Che cazzo succede? Sei sordo? Ti ho chiesto che cazzo succede! E tu chi sei? È per averci provato con la mia donna! Io non sono la tua donna! Tu chiudi il becco! Ammazzalo, dai! Bobby, no! Te l'ho già detto! Sta zitta! Facevo l'autostop e mi ha fatto salire! Mi ha soltanto dato un passaggio! Ha dato solo un passaggio, eh? Ci scommetto che era solo un passaggio! Sei diventata matta! Adesso dovrei... Oddio! Cianculo! Lo faccio fuori io! E poi porta il corpo nel bosco e nascondilo! Portalo tu! No, io gli sparo! Io gli sparo! Io gli sparo! E poi te lo porti! Dovrei sparare anche a quel tuo culo di un nano! Avresti più roba da trasportare! Ah, vaffanculo! Andiamo via da qui! Troppi problemi, cazzo! Alza il culo! Alzati! Andiamo via da qui! Tu sei matta! Pensi che sto giocando? Prendila! Spostati! Ci penso io a lei! Vado a prendere la borsa! Sta ferma! Che cazzo vuoi fare? E non sono russo! Sono un serbo rom! Stronzo! Muoviti! Andiamo! Ho pisciato su quella testa di cazzo! Grazie a tutti!